Bene ragazzi, salve a tutti quanti, io sono Giuseppe Bahia, questo video non è pubblicato dal personaggio che ho costruito, ovvero Baio, che poi sono sempre io, non è che ho costruito nulla comunque, perché voglio spiegare quello che ha Giuseppe Bahia è successo. Allora, come voi ben sapete sono andato alla Milan Games Week per tre giorni, sono andato là per motivi di lavoro, perché volevo fare delle interviste, volevo fare delle fotografie, volevo fare dei video, volevo seguire la nazionale di Overwatch di cui conosco i membri e volevo seguire la TGL e la OPL di Overwatch. Volevo poi salutare gli amici di MSI, di HP Informatica e altre persone. Oh miciotta, vieni qua. Tanto il miciotta mi salta addosso come sempre. Allora, dicevo, come è successo durante i giorni della Games Week? Mi sono divertito tantissimo, ho lavorato molto, ho fatto molte interviste, da breve saranno tutte quante pubblicate, intanto ne ho pubblicati due delle tre che ho fatto via video, le altre, anzi no, tre delle quattro che ho fatto video, una in diretta, le altre tre invece no. Poi ho fatto molte interviste a voce, verranno pubblicate anche quelle con domande e risposte fatte da me tramite come come se fosse praticamente una specie di questionario e verrà fatto un piccolo video successivamente con questi programmatori. Ho conosciuto moltissime persone interessanti, ho fatto qualche acquisto dei regali della famiglia e mi sono divertito. Ho lavorato moltissimo perché veramente non ho avuto un minuto di pace per me stesso. Inoltre l'albergo della seconda notte che sconsiglio tutti quanti, si chiama Hotel Novara a Bareggio in provincia di Milano, settimana ultima Milano, è un hotel di merda gestito da Arabi, lasciamo stare sporla, poi vi farò vedere le foto. Comunque, parliamo di quello che vedete nella schermata di sfondo a questa registrazione. Questa funzione è temporaneamente bloccata, di recente hai pubblicato un contenuto che non rispetta le normative di Facebook, pertanto ti è stato impedito temporaneamente di usare questa funzione. Per ulteriori informazioni visita il centro assistenza. Adesso ragazzi, metto giù una gatta perché voglio farvi vedere, voglio spiegarvi. Il terzo giorno della Milan Games Week, tra le sette e le otto, ovvero dopo l'orario di chiusura, perché era già da dieci minuti, alle sette meno dieci hanno cominciato a dire la fiera sta chiudendo, accomodatevi verso le uscite. Dopo questa chiusura, diciamo, c'era uno stand di cui non faccio nomi, che era ancora aperto. Teniamo ancora la gente davanti, più o meno ci teniamo di persone, più o meno. Mentre tutti gli altri stavano sbarcando, mentre lo stand di fianco di PG Arena, MSI Arena e a capa informatica, stavano ancora smontando. Cosa succede quando smonti uno stand così grande? Quando lo monti non c'è nessuno che ti rompe le valle, sono solo gli addetti i lavori. Quando lo smonti dovrebbe essere uguale, non dovrebbe esserci nessuno e generalmente è così. Come è successo? Che stavano imballando i computer MSI da esposizione, non quelli in vendita, quelli in vendita erano già imballati, perché erano sempre imballati. Quelli erano PC intanto non in vendita, cioè che non era disponibile da vendita, perché erano un modello diverso. Poi, stavano in esposizione, quindi erano scatole non chiuse del tutto e senza sigillo di garanzie davanti. Succede che ne rubano due portatili MSI Gaming da circa, presupponendo il modello, cioè, riconoscendo il modello da circa 2.800-3.000 euro l'uno. Comunque, bei soldi. Piccola parentesi, non solo, hanno rubato anche parecchio materiale da GameStop, hanno rubato tra pad, anche dei console, mi sembra pad, console, giochi, un valore veramente elevato. Sempre loro erano sempre loro. Come succede? Succede che all'uscita di GameStop, all'uscita di GameStop, all'uscita della Milan Games Week, io becco queste persone qua. Sottolineo che ancora non sapevo del furto, non lo sapevo. Io becco questa gente qua. Vedo questi due portatili e dico, ragazzi, li avete comprati, bravi, bravi, sono veramente dei portatili di fascia molto alta, vi divertirete, bla bla. Quanto li avete pagati? Mi hanno detto una cifra tra le 2.000-2.200 euro. Mi hanno detto, che Dio, mi sembrava un po' bassa per quel prezzo, di solito, stanno a 2.600-2.800. Però ho detto, vabbè, magari visto che li hanno presi adesso, hanno strappato un buon prezzo, perché era fine fiera, magari erano gli ultimi pezzi, vabbè. Non avevo visto bene le scatole con i modelli, perché i modelli li conosco. Dopo, abbiamo parlato un attimo, perché era proprio l'uscita, stavamo uscendo verso le scale. Abbiamo parlato qualche secondo, 40 secondi, mi hanno visto molto ferrato in materia e mi hanno chiesto. Per caso fai parte dello staff, perché sei... conosci tutto, eccetera. No, no, non faccio parte dello staff, sono uno youtuber, sono qua per fare qualche intervista e fare qualche foto e video. Nel frattempo bevo, scusate. E niente, allora dopo qualche secondo vengono lì, mi fanno. Beh, allora te lo possiamo dire, li abbiamo appena rubati. Allora, davanti a una cosa del genere, chiunque resta spiazzato, non volà, non mangiare la matita di mamma, sto mangiando le matite di mamma. Comunque, chiunque resta spiazzato davanti a una cosa del genere? Chiunque resta spiazzato, resterebbe spiazzato. Io sono rimasto spiazzato, non ci ho creduto, io li uso in faccia. Pochi secondi dopo mi hanno detto, abbiamo rubato anche questi. Mi ha fatto vedere le tastiere e i mouse della Nikon. Allora, lì mi sono detto, visto che loro stessi mi avevano proposto, non loro i ladri, ma quelli di, che erano lì allo stand in Nikon, che avevano organizzato la cosa, avevo chiesto quanto costassero queste tastiere, mi hanno detto, non sapevano attualmente il prezzo, perché comunque è disponibile sul sito di ACP Informatica, eccetera. Mi avevano detto che mi avevano potuto dare queste tastiere qua, che erano state usate qui, a un prezzaccio. Poi ce la stava troppo casino, devo ancora sentirli, perché forse sono ancora, se ne sono ancora molto disponibili. Però effettivamente ci poteva stare, magari hanno pagato, ho detto, magari hanno pagato, che so, 30 euro la tastiera e 30 euro il mouse, e vabbè ci sta. Però quello che mi ha lasciato un po' sorpreso sul momento erano i cavi. Loro quando ti vendono una tastiera, anche se senza scatola, i cavi te li rotolano e ti li legano, c'è un nastro apposta, quindi erano sprovvisti di questa cosa. Per cui un po' ho mangiato la foglia, stavo mangiando la foglia. Qualche secondo dopo, tutto questo ragazzi è accaduto nell'arco di due minuti, un minuto e mezzo massimo due. Perché ho avuto molto, non ho avuto il tempo di razionalizzare il bene e il tutto. Qualche secondo dopo, non mi parlano più, si spostano e vedo meglio le scatole. Le scatole erano di portatili MSI Gaming, dati un secondo che devo riguardare le foto, perché in questo momento non mi ricordo neanche io, non si vedono molto bene, comunque erano dei portatili MSI di fascia molto alta, veramente molto alta. Al che vedo che mancano, vedo anche un'altra particolità, manca il sigillo di garanzia davanti, il sigillo MSI che chiude la scatola. Guardo meglio una delle due scatole, era un po' aperta e vedo che mancano le protezioni interne, cioè le spugne che proteggono il portatile. Faccio 2 più 2 velocemente, capisco che effettivamente li avevano rubati, il mio primo istinto era quello di, fu quello di gambizzarli, cioè il mio istinto fu quello di prenderli per il collo entrambi da dietro, così, sollevarli di peso e portarli dentro. Anzi, non proprio così, ma sollevarli di peso e dire adesso mi date l'area furtiva, perché se la date a me, che conosco MSI, a capo informatica, eccetera, finisce qua la storia, non parte la denuncia, se la date a me e io la restituisco. Altrimenti, se volete fare storie, io vi blocco qui, vi fermo qui, mi siedo sopra di voi e chiamo la polizia. Poi ho pensato, ho visto che non erano in due, ma erano in sei. Ho pensato, io sono grande e grosso, sono anche piuttosto forte, però sono stanco, sono molto più vecchio di loro, poi avevo avuto 18-20 anni a massimo, io ero 35, sono più vecchio di loro, ho addosso 30 kg di roba tra materiale, audio-video, attrezzatura, audio-video e regali. Ho un figlio di 4 anni a casa che mi aspetta, non voglio rischiare la mia incolumità, perché comunque si erano in sei, potevo farmi del gran male. E allora come è successo? La mia mente ha razionalizzato in 15 secondi cosa fare, in pochissimi istanti cosa fare, ho preso il telefono, me lo sono messo così, guardate, senza puntare, fotocamera accesa, me lo sono messo così, senza puntare, così, messo però, guardate, messo a questa altezza così, e ho fatto tac e tac, due foto così veloci. Quello che ho potuto fare? Poi ho avviato un video, facendo finta di salutare chi mi segue su YouTube, Twitch, Facebook, eccetera, quando ho cercato di riprenderli senza farmi vedere da loro. Però a un certo punto uno dei due ha mangiato la foglia, perché stava capendo che lo stavo per riprendere, si è messo il cappuccio in testa, si è messo il cappuccio della faipa in testa, ha dato una pacca al suo amico e se la sono telata verso la metro. Ho cercato di inseguirli, senza ovviamente successo, quando due persone, vi faccio vedere adesso le foto, quando due persone del genere, due ragazzini così, magrolini, scattanti, eccetera, beccano uno come me che è alto 1,87 m e pesa 118 kg, con 30 kg più di roba addosso, che era tutto quello che avevo, 2 più 2 non li beccherò mai nella vita, ma neanche se fossi 118 kg di puro muscolo li beccherei. Per cui, cosa ho fatto? Ho inviato subito le foto ad MSI, ai contatti che avevo di MSI e ho detto come titolo PC portatili rubati. Ecco le foto, boom, io le inviate. Nel tornare indietro, perché voglio tornare ad avvisare la sicurezza e i carabinieri, piccole virgolette, di solito negli altri due giorni, all'uscita della Games Week, verso la metro, c'è verso la metro che era a sinistra e verso i parcheggi che erano a destra, c'erano sempre due puliziotti da una parte e due dall'altra, due carabinieri. Questa volta, no, non c'erano. Che baco enorme anche da parte delle forze dell'ordine. Vabbè, comunque, io mi giro, faccio per entrare dentro e cosa becco? Della sicurezza, quindi della sicurezza interna, non di GameStop, ma della sicurezza interna e di qualche stand. Li fermo, siete della sicurezza? Sì, perfetto. Allora, ho appena beccato i ladri che hanno rubato i portatili MSI. Sono da pochi istanti, passato un minuto e mezzo, due minuti al massimo, corsi verso la metropolitana. Ho cercato di raggiungerli in vano, guardatemi fisicamente. Se correte fate ancora un tempo a prenderli. Mi guardano e mi fanno, eh ma noi siamo della sicurezza di GameStop. Noi non possiamo intervenire sulle faccende di MSI. Vi giuro, in quel momento avrei voluto ammazzarli tutti e cinque di botte. Sono corso dentro, sono andato direttamente dal responsabile di MSI, da uno dei capi di MSI. Ho detto, vi hanno appena rubato due computer, due portatili? Mi fa, sì, come fai a saperlo? Ho fatto le foto, li ho beccati, si sono vantati, ragazzi, si sono vantati con me di averli rubati, quindi non sto inventando le cose. Ho fatto le foto, loro mi hanno detto, mandacele subito per il riconoscimento. Ve le ho già mandate, purtroppo non ho beccato il viso e mi spiace di non essere riuscito a fermarli. Avrei tanto voluto, ma erano in sei, non erano in due, erano in sei. Mi hanno ringraziato, sono andato a capo informatica ad avvisare Alessio di a capo informatica di questa cosa e poi sono andato in bagno a cercare la faccia perché ero sudatissimo e sono tornato via. A capo informatica, un po' scioccamente, anche se hanno avuto il mio permesso, ma un po' scioccamente, hanno messo le foto con il mio nome su Facebook, di questi due lati cercando il riconoscimento. Non do colpa a capo informatica di quello che è successo poi, assolutamente perché io ho dato il mio permesso di utilizzare le foto e di utilizzare il mio nome, per aiutarli, perché non volevo che andassero in casini strani. Io, su Facebook, si è consumato uno stilicidio nei miei confronti. Si è consumato, non uno stilicidio, scusate, ho sbagliato il termine, si è consumato una vera e propria aggressione verbale nei miei confronti che andrò a farvi vedere in questo momento. Praticamente, cosa è successo? È successo che i cosiddetti leoni da tastiera, cari signori, chi mi ha dato il vighiacco per averli fermati in 6 contro 1, chi mi ha dato dell'infame per aver postato le foto e aver fatto la denuncia, insomma mi hanno insultato. Io non riesco adesso a farvi vedere il commento incriminatorio, perché ci sarebbe da dire tanto. Il commento incriminatorio che io ho scritto, ed è stato un commento difensivo nei miei confronti, potete guardare, guardate qua a un certo punto. Vi faccio vedere un attimo. Allora, apro questa foto qua, perché è scritto qua. Eccolo qua, Vincenzo Pulito, per esempio, ha scritto, quello che ha fatto le foto, non poteva fermarlo, io, cioè, non poteva fermarlo, 6 contro 1, io ho risposto, eccolo qua, eccolo qui, eccolo qui il commento incriminatorio, non me l'hanno tolto questo qui, perché l'ho scritto due volte. Allora, se leggete, se ha scritto, caro Vincenzo Pulito, eccomi qua, sono colui che ha fatto le foto e colui con i quali i ladri sono vantati di aver rubato i soldi tipici. Ti fornisco alcune informazioni, dato che pare sapere tutto, ignorando invece qualsiasi cosa. Uno, non erano i due ragazzini, ma lì sul momento erano in due con 4-5 amici. Avevo addosso 30 kg di roba, tra attrezzature audio e video e regali vari per mio figlio e mia moglie. Sono grande, grosso e forte, fin qui ci siamo, ma volevo vedere te in 1V6 cosa avresti fatto, ma anche solo 1V2 secondo me stavi fermo e anzi scappavi e via. Quattro, concludo dicendo questo, tutti froci con il culo degli altri. È un'espressione che sta a significare che tutti quanti sono capaci di fare la voce grossa, di fare i grandi uomini sulle faccende altrui. Questo commento mi ha valso un ban da Facebook di 7 giorni, perché il signor Vincenzo Pulito, guardate ragazzi, io vi faccio vedere chi è Vincenzo Pulito, aspettate un attimo, vediamo se si vede. Eccolo qua, il signor Vincenzo Pulito o Pulito, questo personaggio che non ha neanche il coraggio di avere una foto sul suo profilo, una foto sua sul profilo, mi ha denunciato, lui e altri, non solo lui ma lui e altri, mi ha denunciato a Facebook per questa frase, che ho scritto due volte, l'ho scritto a lui e l'ho scritto ad altri due campioni. Ok? Adesso vediamo se la trovo, perché sono molto curioso se la trovo. Comunque, detto questo, ecco qua, un altro. Dov'è? Scommetto che c'è anche qua quel commento, che non me l'hanno rimosso, scommetto. No, me l'hanno rimosso questo. Comunque, fatto sta che una persona, non ho fatto l'eroe, io non mi considero un eroe ragazzi, ho fatto il mio dovere civico di cittadino. Ok? Una persona che cerca di aiutare degli amici, perché considero i ragazzi di MSI, i ragazzi di HB informatica degli amici, sono MSI da poco che li conosco. HB informatica sono diversi anni e a me mi ha sempre trattato molto bene, anche per quanto riguarda i prezzi. Leggo dei commenti assurdi ragazzi. Dov'è? Peccato, una volta che le parti si invertono. Ma perché? Ma perché? Ma perché la gente scrive, scrive, rubate tutto l'anno, voi di HB informatica, rubate tutto l'anno con i vostri prezzi e poi, per una volta che vi rubano contro, vi incazzate. Ma che discorso è? Intanto loro non rubano. In primis, sono un negozio serissimo, super in gamba di persone veramente, veramente, veramente in gamba, che vendono materiale informatico. Non sono Amazon. È ovvio che i portati, la roba che hanno loro su Amazon costi meno. Non sono Amazon. D'accordo? Amazon decentra tutto quanto fuori dall'Italia. Loro pagano le tasse in Italia. Ok? I prezzi sono adeguati. Punto. Sono un po' sopra a quello che può essere un prezzo 1 euro, un prezzo Euronics, un prezzo Media World su alcune cose, ma la roba che hanno loro non la trovate in questi negozi. I portati di canale loro delle MSI o i loro computer a cappa informatica, marchiati a cappa informatica che montano loro, voi non li trovate nei negozi. E vi assicuro che la qualità di a cappa informatica è innegabile, è incontestabile. Per cui, detto questo, io leggo commenti allucinanti. Allucinanti, ma la roba allucinanti. Gente che scrive, ma gente che mi ha scritto contro. Ragazzi, io non ho fatto niente di male. Io ho fatto delle foto a dei ladri e ho cercato di aiutare a cappa informatica ed MSI Gaming, MSI, a recuperare l'area furtiva. Ragazzi, mi scuso se questo video sta andando un po' troppo più lungo. Ve lo farò di 10-15 minuti, ma non ci riesco. Mi hanno infamato, mi hanno insultato, mi hanno dato del vigliacco, mi hanno dato del codardo, che poi è la stessa cosa. Mi hanno dato dell'infame perché ho postato le foto, ragazzi, perché ho dato le foto a MSI e alle Forze dell'Ordine. Mi hanno scritto privatamente, poi rimuovendo ovviamente il commento privato, e non posso più farvelo vedere purtroppo, mi hanno scritto privatamente sei un bastardo infame, ok? Sei un bastardo infame perché non ti sei fatto i cazzi tuoi, ma postando le foto e facendo le denunce. Ragazzi, hanno rubato, capiamoci, hanno rubato quasi 10.000 euro di valore tra il valore di GameStop e il valore di MSI. Hanno rubato, rubato, ok? Hanno commesso un crimine. È come se io o voi, voi che mi seguite, andate in un negozio a rubare una borsa firmata da 3.000 euro. È la stessa identica cosa. Io, ragazzi, non ci posso credere che Facebook mi abbia bloccato l'account. Io posso vedere le cose sul mio account, le cose su Facebook, non posso postare nulla. Ragazzi, io sono uno youtuber, appena iniziato. Io oltretutto gestisco una catravata di gruppi su Facebook. Sono amministratore di una catravata di gruppi, tra cui moltissimi di informazione sociopolitica, moltissimi di informazione videoludica e moltissimi tematici, tra cui anche di cucina, di esoterismo e altre cose. Io non posso, ragazzi, seriamente, io non posso stare sette giorni senza poter controllare questi dubbi. Ci sono altri amministratori, ma sono l'unico che lavora assiduamente tutti i giorni, perché sono l'unico che praticamente, scusate, non c'ha un cazzo da fare, perché purtroppo nove mesi fa ho perso il lavoro e al 35 anni un lavoro non lo trovi in Italia, perché sei troppo vecchio per l'apprendistato, ma troppo giovane per la pensione. Cioè, rendiamoci conto. Per cui mi sono messo a fare YouTube, come voi sapete, ragazzi, l'ho fatto per gioco, per sfida e mi sta funzionando. Non ho fatto un errore, ragazzi, io non ho commesso un errore. La prossima volta, veramente, ti fa passare la voglia, sta cosa, ti fa passare la voglia di fare qualsiasi cosa. Io la prossima volta, ragazzi, prendo e mi fa, oh, e prendo, io non sono capace di farmi i cazzi miei, non sono mai stato. Ma è la prima volta che ho avuto dei guai per aver aiutato la gente. Prima volta. Addirittura si vocifera, e non so se sia vero, che questi geni, questi deficienti che vedete nella foto qua adesso, questi due cerebrolesi, uno, due, anzi, uno, due, poi, tre, quattro con loro, e qui davanti sono loro amici, ragazzi, quei tre qui, che vedete qua, questi tre sono loro amici, quindi contiamoli bene. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, erano in sette. Uno contro sette, ma siamo impazziti, ma nemmeno fossi Bruce Lee l'avrei fatto. No, forse come fosse Bruce Lee l'avrei fatto, forse. Se fossi stato un esperto di arti marziali, magari ce l'avrei fatta, magari. Ma rendiamoci conto, ragazzi, ecco, guardate qua, la maniglia è rotta, vedete, ad esempio, è rotto il cartone. Rendiamoci conto, ragazzi, che potevano essere armati, i computer lì pesano due chili e mezzo l'uno, potevano usare quelli per farmi del male. Io ero da solo contro sette, contateli, uno, due, tre, quattro, cinque, sei e sette. E ce n'erano altri, perché ho scoperto che ero un gruppo di parecchi in più. Si parla di un gruppo di venti ragazzi, eh? D'accordo? Si parla che questi geni, questi deficienti qua, questi ladruncoli di merda, adesso vogliono denunciarmi perché io ho fatto le foto e le ho rese pubbliche. Perché in Italia, è vero, vale solo il fatto che se sei ripreso da delle telecamere di sicurezza o da delle fotocamere di sicurezza, allora vale. Se è un privato o qualcun altro, non valgono. Per cui possono denunciarmi, potrebbero denunciarmi. Ma io spero che sia uno scherzo, perché veramente, se è la verità, l'Italia è diventato veramente il paese delle banane, il paese delle stronzate. Ok? Adesso, io spero, io ho fatto l'esposto a Facebook, spiegando la situazione e facendo vedere anche quello che è successo. Io spero che Facebook si rimangi nel frattempo la gatta che torna. Io spero che Facebook si rimangi questo blocco perché non è assolutamente accettabile. Ragazzi, era solo per spiegarvi perché ieri mi avete visto un po' giù di morale e un po' arrabbiato. Sono stufo di tutto questo, ragazzi, sono stufo. Io sono qui per divertirmi e per far divertire gli altri. Io ho fatto una mano, ho dato una mano da capo informatica del MSI, a recuperare la rifurtiva. Grazie a me sono stati individuati e la rifurtiva è stata recuperata, è stata per essere recuperata. Grazie a me che ho fatto queste foto sono stati individuati. Poi loro sono stati scemi perché hanno fatto un errore madornale che non posso dirvi adesso, ma che sicuramente vi dirò a breve quando potrò dirvelo perché probabilmente verrò chiamato dalla questura di Milano. Spero di no, ma in realtà spero di sì perché li vorrei guardare in faccia mentre piangono. Ma comunque, ragazzi, io qui vi saluto. Video di 25 minuti speravo meno, ma capiamoci. Non ho messo la sigla di Shotgaming, non ho messo il link di Shotgaming, cioè non ho messo lo sfondo di Shotgaming, ho messo uno sfondo normale con Facebook e il mondo, con la mia faccia e con tutto, come potete vedere. No, ecco sì, la mia faccia, quello che è su Facebook, eccetera. Facebook è la rete mondiale più, è la rete più globale in assoluto, il social più globale in assoluto, che connette tutti a livello mondiale, ma sta diventando ridicolo perché uno non può nemmeno scrivere. L'ho detto ieri in live, farsi una sega non vuol dire masturbarsi, vuol dire costruire una sega, un attrezzo atto a segare i tronchi, la legna. Farsi una pippa non vuol dire semplicemente masturbarsi, vuol dire fumare una pipa, vuol dire riprendere una pipa, che è costruire una pipa, o fumarsela, perché è l'atto di caricare la pipa, accendersela e fumarsela. Un attimo che sto pensando a qualcosa, vabbè, niente ragazzi, l'ho detto ieri in live, non ce la faccio. Io adesso devo andare, devo andare a fare la spesa, ragazzi qua Giuseppe vi saluta, ripeto, non ho fatto questo video come Baio di Shotgaming, ma come Giuseppe Bahia, io sono Giuseppe Bahia, per cui ragazzi ricordatevi che non ho fatto nulla di male, non ho fatto nulla di male, ok? Io ho solo aiutato a far trovare dei ladri e a sventare un'eventuale veramente grossa rapina. Qui di GameStop dovrebbero strisciare i miei piedi, leccarmi di ringraziarmi, perché i loro addetti a sicurezza potevano evitare questo, se mi ascoltavano e andavano a ricorrere questi ladri qua, perché hanno rubato diversi giochi, pad e anche console da GameStop. Qui è tutto dal vostro carissimo Giuseppe Bahia, vi saluto, non c'è stata né sigla iniziale, non c'è stata la sigla finale, perché ripeto, non è Baio di Shotgaming che parla, ma è Giuseppe Bahia che sta subendo delle angherie, delle ingiustizie da parte di persone che non capiscono un cazzo che hanno il cervello immerso nella merda, ok? E da parte anche di Facebook, che anche Facebook dimostri di avere il cervello immerso nella merda. Ciao a tutti ragazzi.